Sono Vittoria e ho scelto di svolgere il mio anno di servizio civile con Progetto Mondo nella sede di Verona. Il progetto in community, giovani e società inclusive in cui sono coinvolta, è racchiuso nell'ambito della cittadinanza attiva e della global education. Ho scelto di svolgere il Servizio Civile Italia per prendere parte attiva nella comunità e per poter cogliere opportunità uniche di conoscere e apprendere mettendosi al servizio degli altri. Scegli il servizio civile con Foxy, fai una scelta di valore.